E' tornato in centro a Parma a Begli e Buoni, il mercato di Confesercente e la sua ottava edizione nella variante estiva. 20 Stand con prodotti alimentari tipici artigianali da tutto il paese, nello spirito dell'Unità d'Italia. Per tre giorni Via Cavour ha ospitato la manifestazione con il mercato dei prodotti tipici artigianato di qualità, organizzato anche con il patrocinio del Comune di Parma, in collaborazione con il quartiere Parma Centro e il sostegno economico di Banca Monte Parma. 20 Stand, dicevamo, con prodotti alimentari provenienti da tutte le regioni italiane e qualche bancarella di artigianato che sono stati allestiti lungo la Via del Centro venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 giugno, dalle 9 alle 20. Un evento che ha visto i venditori ambulanti affiancare i negozi fissi, nel rispetto delle regole di buon vicinato dei commercianti, soprattutto quando si intende valorizzare e animare il centro cittadino. Anche in questa edizione estiva, in primo piano la qualità delle specialità alimentari, in arrivo da tutto il paese, anche per festeggiare simbolicamente il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. I colori e i sapori dei tradizionali e sfiziosi prodotti tipici e gli originali manufatti dei maestri artigiani ritorneranno di nuovo insieme, per uno shopping di qualità alla portata di tutti nella magica atmosfera autunnale del centro di Parma dal 18 al 20 novembre 2011. Grazie.